Oggi state protestando per i tagli alle civiche? Assolutamente sì, stiamo protestando perché siamo preoccupati per il futuro di questa istituzione importantissima per il Comune di Milano. Se i tagli che sono stati prospettati ci saranno produrranno sicuramente degli effetti negativi su tutta la città, qualità dei servizi e la possibilità agli studenti di non partecipare, in sostanza perché quello che preoccupa più è un aumento delle rette. Cosa chiedete voi? Che il Comune di Milano investa su queste istituzioni perché sono fondamentali per la cultura e per la città del Comune di Milano. Quindi continui a un contratto che dura fino al 2030 e quindi continui a finanziare questa istituzione importantissima. C'è poi la questione del trasferimento delle scuole in Bovisa. Esatto, anche lì inizialmente si parlava di spostare tutte le nostre scuole in questo centro in Bovisa ma dalle ultime notizie che noi abbiamo solo due barra, due scuole e mezza si trasferiranno di là e quindi il problema c'è e siamo preoccupati anche sotto questo aspetto e sotto questo fronte.